Mi invitarono a una convention della Lega Nord C'era uno che tutto il tempo mi ha detto che ero contro natura Di tutto mi ha detto Ma se l'ha cominciato a corteggiarmi Mi ha detto scusa ma tu non eri quello che diceva che so contro natura? Cioè ma... Eh vabbè ma che c'entra? Quella è politica Era un cesso, se no ci sarei pure a me Sarebbe stata una storia bellissima L'avrei fatto cambiare te Sai a volte prenderlo al culo allarga la mente Muschio selvaggio Federico Muschio, microfono, videocamere e luci 20 minuti, un'ora di argomenti Muschio selvaggio Ragazzi benvenuti a Muschio selvaggio Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Vladimir Luxuria Grazie Grazie di essere qua Benvenuta, come stai? Bene 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 Da Roma Da Roma Roma Da Roma per scelta? Allora Sei di Roma? No, io sono foggiana Di Foggia Foggiana A vent'anni sono andata via Per diciamo l'università Per esempio l'università Avevo... non sapevo se andare a Roma o a Milano Dovevo fare questa scelta Perché Milano è stata la prima città in realtà che mi ha accolta Perché quando avevo 16 anni, ancora minorenne, mi avevano raccontato che a Milano esisteva un locale Che si chiamava la nuova idea Che si chiamava la nuova idea in via melchiorreggioia Ah certo, famosissimo Dove c'erano i gay, le trans E io ho capito che stavo a Foggia un po' di anni fa Ho detto ma è possibile che siamo così tanti Che addirittura si va in un locale Per cui sono partita da Foggia Mi ricordo avevo 10.000 lire Menti ai miei genitori Ho detto che andavo da un'altra parte Dove gli hai detto che andavi? Gli ho detto che andavo a trovare dei miei amici Che incontravamo al mare in vacanza sul Gargano Che mi avrebbero ospitato i loro genitori Bello Sai cosa avrebbe fatto ridere? È abbastanza complesso Se avessi detto andiamo a trovare il Papa Ma mi avrebbe fatto molto ridere L'opposto Ma chi è che va a trovare il Papa e i genitori? No, è andato a Roma Però è stata una illuminazione È stato per me un tempio anche quello Perché entrare per la prima volta in un locale E vedere la gente come me Che si divertiva, che ballava Che anno era? Siamo, allora Io sono nato nel 65 16 anni Primi anni 80 Primi anni 80, esatto Ma ricordo che io ero entrato A parte che sono arrivata lì davanti ai cancelli Alle 6 di pomeriggio Perché ancora non sapevo a che ore si andasse a ballare Quindi mi sono messa lì ad aspettare Davanti ai cancelli che aprisse il locale Poi non avevo i soldi in realtà per la discoteca E feci la colletta Cioè tutti quelli che venivano di volta in volta Chiedevo Ce l'hai 100 lire? Ce l'hai? Poi dopo uno mi ha preso a benvolere Mi ha fatto entrare E mi ricordo che io immaginavo di entrare E vedere un ambiente trasgressivo Eccetera eccetera Invece c'era un palchetto Con un'orchestrina Che facevano liscio E ballavano le coppie Same sex dancing Formate appunto dello stesso sesso Che ballavano appunto Quindi questa trasgressione che mi aspettavo In realtà mi si è presentata Nella forma più tradizionale Di normalità assoluta Quindi diciamo devo scegliere tra Milano e Roma Alla fine ho scelto Roma Però vengo spesso a Milano Che tu sappia esiste ancora La casa c'è ancora E dove c'è il bosco verticale O l'hanno buttata giù? No l'hanno buttata giù Perché poi dopo hanno fatto tutto il quartiere nuovo E adesso è fuori Milano Un po' lontano Cazzo perché era una casetta gialla Sì bravo Era gialla E c'erano due piste Una appunto di liscio Mazzurca Ma era bella proprio la casetta Perché cazzo l'hanno buttata giù? La roba della app Per fare un po' di grattacieli Sì ma cazzo Lasciali la casetta Un peccaccio C'erano i campi C'era l'erba Adesso c'è solo cemento No no Credo che hanno buttato Hanno buttata giù la casa Per fare il parco Credo E succombita Succombita No non credo si dica così Però capite quello che sto dicendo Sì sì Come si dice? Soccombuto Soccombuto Soccombere il participo passato? Oh mio Dio Soccombere 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 Quello è il passato remoto Soccombere Soccom E soccomba Participio Participio passato Di soccombo Soccombere Vediamo Gli ho trascinati Allora Soccombuto Esatto Soccombuto raga Soccombuto L'ho detto giusto io E cos'è che ho detto? La lingua più bella Soccombita Sì Soccombuto L'ingua più bella del mondo Però è una casa e soccombuto? Eh? Una casa e soccombuto? No la casa sarà con soccombuta 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 Questa lingua Ahimè è soccombuta Ahimè è soccombuta Ai gratacieli Poteva finire come esperienza E invece ahimè è soccombuta È molto peggio È soccombuta Abbiamo scoperto una parola orribile Sa di oblio Sembra un buco A me questo dettaglio Che poi non è un dettaglio Del fatto che non avessi certezza Che esistessero realtà Dove ci si potesse incontrare Ci si potesse Incontrare Non nascondere Prima di internet Dico Perché ora penso Sia molto più facile per qualcuno Vedere che esiste qualcos'altro Allora io Non mi sono mai Autopercepita Ecco questa parola Che fa così Incazzare tanti Non mi sono mai Autopercepita Come maschio Cioè Non c'è stato un momento Della mia vita In cui io mi sono sentita Maschio E quindi Per me era normale Parlare con le mie amiche Come se fossi una di loro Volermi vestire Come le mie sorelle Però capivo Che questo mio atteggiamento Creava No? Disgusto Disprezzo Giudizio Infatti Gli unici che mi capivano All'inizio Erano gli animali Gli animali Ecco Gli animali Che io ho sempre amato Sono sempre stata Andavo in campagna Da mio nonno Perché era pieno di animali Mi sembrava che fossero Gli unici a capirmi Guarda Ancora oggi Io preferirei vedere Invece di certi senatori Un cagnolino Un gattino Perché secondo me Perché gli animali Non discriminano Ma i tempi di Caligola Sì Esatto Oh E quindi Questo Quindi Cos'ho fatto all'inizio All'inizio Ho cercato di Di recitare Cioè di far finta Che ero come i miei cugini Come i miei amichetti Oppure Provavo a giocare a pallone Però Avevo Paura che il pallone Mi colpisse Che mi facesse male Ecco Questo devo dire È successo anche a me Devo dire In maniera uguale Odiavo il pallone Questo ci dicevano anche Di calciatori È vero È vero È vero Ce l'hanno detto anche i calciatori Che hanno paura del pallone È vero Ah sì Il dramma è che i portieri Hanno paura del pallone È vero Quindi a volte Credo che questa sia la cosa Che accumula tutti È vero E poi Che ne so Tipo appunto Vabbè Poi le cose anche Se vuoi Anche un po' più banali Che mi piaceva giocare Con le bambole Che a carnevale Mi travestivano da sceriffo Pure mettendomi baffe Che invece Io mi volevo travestire Da spagnola Tutte Tutte queste cose qui Il travestimento è da spagnola? No Mia sorella si travestiva da spagnola Tipo Il flamenco Tipo l'emoticon Sì 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 La gonna rossa A balze Con esatto Con le nacchene Immagino che se scrivi spagnolo Viene fuori Quello Non credo che venga fuori quello Se scrivi spagnolo Non cercate Non su google Flamenco forse Se metti flamenco Viene Flamenco Scrivi spagnola Sì Viene esattamente l'emoticon È visto? Guarda L'immaginario Ecco quello lì Non cercate spagnola su google Cosa Cosa significa Cioè quella è secondo te La differenza ad oggi Di affrontare La transessualità O anche l'omosessualità Negli anni 80 Rispetto al giorno d'oggi Quante cose sono cambiate E quanto in meglio O se c'è qualcosa Che è cambiato in peggio Per assurdo Non so No secondo me è cambiato in meglio Intanto si sono trovate delle parole Per esempio Omofobia Diciamo quando io Avevo 17 18 anni Questa parola non esisteva Perché era considerato normale Insultare Denigrare Picchiare Per cui perché trovare una parola Che potesse Diciamo così Condannare Condannare questo atteggiamento Non c'era bisogno Non c'era neanche la parola bullismo All'epoca Cioè Era considerato che comunque il debole Doveva soccombere Quindi il debole Doveva essere soccombuto Giusto Quindi Era abbastanza normale E mi ricordo Questa aggressione Io Perché non c'erano locali Nella mia città C'era una via Dove c'era una panchina E noi ci ritrovavamo lì Un giorno arrivo lì Per incontrare I miei amici E Trovo Un ragazzo Che era praticamente pieno di sangue Massacrato Maciullato E io Gli dissi Che è successo Dicevano guarda Stavamo qui Stavamo ridendo e scherzando Sono arrivati dei ragazzi Con delle spranghe E hanno cominciato a insultarci E poi a picchiarci E io dissi Andiamo a denunciare E lui no Ma No Poi Poi si viene a sapere Poi magari ci chiedono Perché stavamo qua No C'era proprio questo atteggiamento Sì Effettivamente Un po' come le donne Vittime di violenza No Che poi alla fine La vittima diventava il carnefice Quindi in realtà È cambiato Perché oggi invece Si denuncia Per fortuna Se ne parla Non siamo riusciti A avere una legge Finora Però c'è un atteggiamento Diverso Poi Il fatto anche che se ne parli Cioè io il fatto che Guarda Di sentirti Di un sesso diverso Rispetto a quello Anagrafico Io mi sentivo Sbagliata Capito? Perché non avevo nessun modello Di riferimento Mi sentivo Mi sentivo come il brutto Anatroccolo Sai quello della fiaba Di Andersen Che poi arriva la nuova idea E trova tutti i cigni Allora io non sono un brutto Anatroccolo Io sono Trovi questo ambiente Cioè Per questo poi ho voluto Anche nella mia vita Creare Diventare direttrice artistica Di un locale A Roma Che è stato Mucca Assassina Per dieci anni Perché ho capito Anche l'importanza In un momento In cui non c'erano Punti di riferimento Di un luogo In cui le persone Cazzo Non si sentissero così sole Capito? Non si sentissero Cioè io Centro d'aggregazione Esatto Per dimostrazione Anche perché Infatti dicevo Senza internet Un esempio che ho fatto Mi è venuto subito in mente Per la masturbazione I primi approcci Con la masturbazione Non c'entra Cioè Prima di internet E post internet Come un ragazzino Si avvicinava Alla sessualità Prima di internet E come ci si è avvicinato Dopo internet Deve essere stato Un cambio Un passaggio radicale Perché io tipo Non avevo idea Che i miei coetanei Si masturbassero E non lo andavo neanche a chiedere E quindi sono andato A cercare su internet Però mi sentivo lo stesso In colpa Capito? Quando ero piccolo piccolo E Ora immagino sia Ancora più Condiviso su internet E tutti sanno Che esiste la masturbazione A tutte le età Credo Sì Presurba Non so Un tempo probabilmente Chi te lo raccontava? Ma sai che c'è Adesso C'è presa di consapevolezza Che le cose Non vanno taciute E che quindi Bisogna appropriarsi Di un linguaggio Per definire Ciò che si è Ciò che si ha attorno Senza avere timore Nonostante secondo me Cioè oltre Oltre all'appropriazione Degli spazi È anche un'appropriazione Mi viene da dire Appropriazione culturale Però in senso buono Nel senso di parola È rivendicazione È rivendicazione Bravo È rivendicazione Nonostante io Percepisco che ci siano Delle frizioni Cioè io ho la sensazione Cioè È stato un anno Dove si è parlato tanto Del tema dell'inclusività Di Alle Zan E la sensazione È che A un certo punto Le persone È una sensazione Cioè non voglio generalizzare Però ho percepito Che quasi Qualcuno pensasse Che se ne stesse parlando Troppo Cioè no Ha senso Quello che sto dicendo Infatti il problema Cioè tipo Sì ok parliamone Però non così tanto Ha senso È una sensazione Non so se sia vera Se corrisponde a verità Beh sai perché Anche se ne è parlato troppo Perché Diciamo così L'iter legislativo Di questa legge È stato lunghissimo È stato un cazzo di inferno Perché noi abbiamo La Camera Poi dopo Bisogna andare dalla Camera Al Senato Commissione Giustizia Quindi Essendo molto lungo il tempo No Se ne è parlato Tanto Vabbè Poi se ne è parlato Anche tanto Perché Insomma Voglio dire C'è tanta disinformazione Quindi Hanno tentato Come al solito Di creare Delle paure Del Gender Arriva Il gender Questa roba qua è incredibile Ma sai C'è proprio il terrore C'è Il gender Nelle scuole È un esempio Incredibile Della propaganda politica No Cioè di come si prendi una parola Che Non sanno nemmeno il significato E che non ha Un apparente significato Come è che la chiamano Educazione gender Ideologia gender Ideologia gender No Quando intervistarono la Meloni Dissero Senta ma che cazzo è l'ideologia gender E lei fa Ah no non lo so io Capito che poi Cioè tu contrasti una cosa Che non sai cos'è Sì Uno shift di attenzioni E di Demonizzazione Ma in realtà io sai che Credo sia semplicemente Sia molto più semplice di questo Sia Semplicemente mantenere Delle sacche di voti Cioè le sacche di resistenza Molto spesso appartengono a categorie Molto verticali Molto specifiche Che Votano In maniera più massiccia Cioè CL Ok È una comunità di persone Che votano A differenza di tanti italiani Che magari non votano Quindi mantenerti Quel pubblico lì Significa Dover prendere questo tipo di posizioni Chi sono CL? Sì Ma anche comunione e liberazione Comunione e liberazione Allora Terribile Diciamo che Allora Se tu chiedi alla gente Vuoi una legge Che inasprisca le pene Per chi Commette un atto di violenza Per orientamento sessuale L'identità di genere La gente ti dice di sì Allora Hanno dovuto invece inventare Il fatto che Questa legge Faceva in modo che Una come me Andava in una classe E spiegando Cos'è la transessualità O l'omosessualità In qualche modo Un po' come Il coronavirus E emanavo dei droplets Che andando nell'aria Andavano a infettare Questi adolescenti Tutti presunti Eterosessuali Che quindi Si convertivano All'omosessualità E la transessualità La stessa cosa Che pensa Orban E Putin Ma infatti io vorrei fare Un discorso più generale Che è un tema Che mi tocca anche da vicino E che vorrei sviscerare Con voi Che è il Cioè volevo sapere da te Il fatto che Dei personaggi pubblici E stranei Alla causa Che non La cui causa Cioè non vengono toccati Direttamente dalla causa Che si mobilitano Cercando di Attivarsi Indipendentemente Dalle motivazioni Che gli spingono Cioè La domanda che ti voglio fare è Se Un personaggio pubblico Si espone Per una battaglia Ok E Magari Lo fa Anche Non ci è tenuto a sapere La sua buona fede Ok Ma se questa cosa Porta a un dibattito positivo È più importante Il dito O la luna Cioè è più importante La motivazione Che spinge la persona A mobilitarsi O Quello che lui porta Domanda per un amico Allora Secondo me Tutte e due Ti faccio un esempio Che potrebbe sembrarti Lontano Però in realtà ci sta Io ho conosciuto Silvia Baraldini Ho fatto anche un monologo Proprio dedicato alla sua vita Che è stata una donna Che quando Nel 65 Anni 70 C'erano le pantere nere Che combattevano Per i diritti Degli afroamericani Lei Cominciò a fare militanza Insieme Ai black E dove nasce Il termine Radical chic Forse No Allora Quindi Praticamente Lì Il fatto che una donna Bianca No Scendesse E si mobilitasse Con le pantere nere Creò un forte senso Di pericolo Perché fino a quando C'è una cosa Che riguarda solo La collettività Ok Ma se Anche gli altri Quelli che Non dovrebbero In qualche modo Allora lì Quelli che Si oppongono Al raggiungimento Di quegli obiettivi Tant'è che poi Lei ha avuto Una punizione esemplare Ha fatto un carcere Durissimo La stessa cosa Fino a quando A parlare Di diritti LGBT plus Eravamo Soltanto noi Ok Ce la cantavamo Ce la dicevamo Anche tra di noi Quando anche Altre persone Diciamo così Estranee Diciamo Ai nostri orientamenti Sessuali Hanno cominciato A A dire Cioè Io Sono In questo momento Mi sento gay Come voi Se i vostri diritti Vengono Compestati Io credo Il tema Scusami Ti interrompo Un secondo Cioè Non devi per forza Essere I diritti Sono di tutti Cioè Non devi essere schiavo Per essere contro La schiavitù Esatto Ma guarda Posso dirti che Cioè Non è neanche così automatico Il fatto di essere gay E di essere A favore Dei diritti Ah è vero Ti potrei fare un lungo Esempio Anche di personaggi Pubblici Omosessuali Che Insomma Quella che Chiamiamo Omofobia Interiorizzata Cioè quelle persone Che alla fine Hanno interiorizzato Questo senso Di inferiorità Per cui Ok Voi ci bastonate E noi continueremo A Lemosinare Il vostro Il vostro Consenso No Quindi Io ti avvicino Quindi Anche il fatto Che tu ti sei così speso Secondo me Ha spinto Un sacco Di ragazzi Giovani Comunque Almeno Interessarsi Di questo Quindi Poi E' molto più preoccupante Pensare che Tanti personaggi Del mondo Della cultura Dello spettacolo Del cinema Della politica Della televisione Non hanno avuto Per tanto tempo Il coraggio Di dirsi gay Proprio perché Invece temevano L'effetto contrario Cioè Ancora oggi Un calciatore Di serie A Non può ancora dire Di essere gay Perché Sai cosa gli dicono Ah gli sponsor Ah poi ti fanno i cori Allora c'è anche Il rovescio Della medaglia Allora uno dice Ah tu vuoi Dici queste cose Perché ti vuoi fare figo Perché fa moderno Perché fa cool Però nessuno pensa Che invece Dall'altra parte Ci sono anche Una sacca di resistenza Omofoba Che invece magari Non è d'accordo Sul fatto che tu Ti stai spendendo Per quella causa Allora anch'io Potrei fare il processo Alle mie intenzioni E qualcuno potrebbe dire Che io Ho organizzato Il primo pride In Italia Nel 94 a Roma Il world pride Da Roma Nel 2000 Perché volevo Diventare parlamentare Cioè Allora Tutti possiamo Avere un secondo fine E invece No Non è così Però guarda Io Sai cos'è Io mi guardo Allo specchio Sono tranquillo Poi sai Quanto più siamo in alto Tanto più I venti sferzano Per cui Va bene Ci facessero pure Il processo alle intenzioni Però noi lo sappiamo Noi lo sappiamo Dentro Quali sono Le nostre motivazioni Ma poi io credo Che sia più Complessa la cosa Secondo me È interessante Uscire dalla narrazione Che sia tutto Bianco o nero Cioè Le motivazioni Che spingono Qualsiasi essere umano A mobilitarsi A compiere un'azione Non è fatta Da una sola decisione Da una sola motivazione È fatta Da una sfumatura Di motivazioni Cioè Se io mi sono Mobilitato Sul DDL Lezzano Su qualsiasi altra cosa C'era anche una parte Di me Che voleva Sentirmi dire Sei bravo Ma c'era un'infinità Di altre motivazioni Magari Ci può essere Una motivazione Prevalente rispetto All'altra Ma non è mai Un solo motivo Che ti spinge Ad alzarti E a fare qualcosa Anche a respirare Cioè A vivere In generale Quindi è proprio Una narrazione Semplificata Dell'essere umano Secondo me Che non ha senso Portare avanti In un mondo Poi posso dire Nel mondo rap Anche trap Sì Ok questo Ma ci sono Anche stati Tanti Diciamo così Tanti che hanno Cantato Cose ben diverse Rispetto Ma io stesso Allora Adesso ti spiego No Ti spiego la mia teoria No no Ti spiego Ti spiego la mia teoria Che ho maturato Nel tempo Di come Innanzitutto Non è una battaglia facile Perché Se fosse una battaglia facile Quella dei diritti Avremmo una legge In realtà Parliamo di un argomento Estremamente divisivo A voglia Estremamente divisivo Non è una battaglia facile Io per dire Essendo Anticarcerario In linea di principio Sarei contro Beh ma Marco Non per la Non è una sana idea Di una tutela Nei confronti Di minoranze vessate Ma per l'idea Che il carcere Sia un'istituzione inumana E infatti Il tema del DDL Zan È che La destra Era d'accordo Sulle pene Sull'inasprimento Delle pene Ma non era d'accordo Sulla parte Educativa Che secondo me È la parte più importante È la parte più importante Il risultato comunque Anche fosse che la legge Sia risolta in un non nulla E che la tematica Ha girato moltissimo Quindi c'è stata Una grande presa Di consapevolezza Rispetto a tutte le sfumature Che vengono toccate Devo dire anche Un grande caos Io in primis Mi sono reso conto Di Grande la confusione Sotto il cielo La situazione è eccellente Cioè che a un certo punto È andata veramente in vacca Cioè io avevo Credo tutti Avessimo capito da tempo Che non sarebbe mai passato A un certo punto Ed era veramente Un gran caos Però Cioè meglio il caos Parlandone Che il silenzio totale Non so come dire Comunque ti spiego Perché La scena rap Se noi pensiamo All'Olimpo del rap Italiano In molti Non si sono esposti Adesso magari Qualcuno si è esposto Ma se pensi A i top Non si sono esposti E attenzione Non è un giudizio Vorrei uscire Dalla narrativa Che io sono Ma non ti giusti Tanto Tu parli dell'argomento Non sei Fedez Che parla Sì però non vorrei Che venisse fuori Io sono meglio Sono peggio Cioè io non giudico Credo che sia molto difficile Per loro Per chi ha fatto rap Perché Esporsi su questa tematica Significa Fare i conti Col proprio passato Si apro Un' evidente contraddizione Io quando mi sono esposto Sono andati a vedere Tutti i miei testi omofobi E vuol dire Giustificarsi Vuol dire passare per incoerente Passare per Quello che lo sta facendo Perché in questo momento Bisogna farlo La verità è che Esporsi per una scena Un ambiente Che è da sé È un ambiente Il rap Nasce rubando Nasce rubando Il rap italiano Nasce rubando Da chi Rubava Non so come dire Cioè i campioni E noi abbiamo preso Questa cultura dall'America Con tutti i suoi pregi E tutti i suoi difetti Tra i difetti Xenofobia E omofobia E quindi è inevitabile Che nei testi di Ogni rapper Della vecchia guardia Che sono i numeri uno In questo momento Compreso me Ci siano dei testi omofobi Esporsi quindi Significa Dover fare i conti Col cazzo di proprio passato Non so Ha senso Quindi non è facile Porca puttana Perché Quando io mi sono esposto Ragazzi Hanno preso tutti i miei testi Quando avevo 15 anni Addirittura Anch'io E vuol dire Era irresistibile Come tentazione Ma se tu lo fai Se tu lo fai con consapevolezza Sapendo a cosa stai andando incontro È risolutivo per la tua persona Non so come dire C'è una cosa che ho apprezzato moltissimo In te Lo voglio dire adesso Perché praticamente Una volta io avevo criticato Un suo testo Che diceva Tipo tipo Pacco con la sorpresa Dicevo che insomma C'era un po' di transfobia In questo testo E un giorno Non mi ricordo Una sera Avevo finito di cenare Stavo tutta bella rilassata Arrivò una telefonata E dice Sono Fedez Ragazzi Dato che ogni tanto Mi hanno telefonato Dalle radio Sai questi che fanno le imitazioni Una volta una Faceva l'imitazione di Nicky Vendola Un'altra faceva l'imitazione Di Alessia Marcuzzi E ero convinta Che fosse qualcuno Stesse facendo la tua imitazione E ti ho trattato malissimo Ti ho trattato malissimo Ma ti giro Cioè Ma secondo te Non immaginavo Poi un giorno Vedendo questa puntata Tu le raccontate Cazzo ma allora era vero Era proprio Fedez Ti volevo chiamare Volevo trovare Plot twist Allora il fatto che una persona Guarda posso dire Una persona Si mette in discussione E che voglia capire No se A volte si fanno delle cose E magari non Neanche ci pensi Che quella cosa Può ferire qualcuno Sicuramente Dici una cosa sbagliata A me piace Non con la volontà Non con la volontà Di ferire qualcuno Ti paragono a Lino Banfi Ti paragono a Lino Banfi Lino Banfi Che ho conosciuto Lui ha fatto molti film Sai quei film Che io mi ricordo Andavo al cinema Certo dove diceva Fracione Fracione E tutti ridevano Tranne me Perché io non mi veniva Da ridere in quelle cose Dopo lui Ha fatto invece altre cose Come fiction Con Nino Manfredi Difetto di famiglia Per Rai 1 Ha fatto anche Il Padre delle Spose Cioè ha affrontato Questo tema Secondo me E me l'ha detto Anche in qualche modo Per riscattarsi Di quel periodo Però in cui Era veramente considerato Normale Fare quel tipo di battute Io non sono Per la cancel culture Per la cosa retroattiva Cioè io sono Per oggi E proiettata al futuro Poi Possiamo criticare Possiamo Però secondo me È importante Proiettarci nel futuro Cioè io non voglio Voglio fare Questo Perché se no Se cominciamo a fare Veramente la cancel culture Ognuno ci vuole I nostri nonni Sono dei fascisti Tutti Prima che le donne Potessero votare Tutti coloro Che hanno governato Il mondo In un periodo In cui le donne Non potevano votare Sarebbero da Demolire le statue No? Che ti dirò Invece io sono Per esempio C'è la statua Di Cristoforo Colombo Vogliamo parlare Anche del Massacri Che sono stati Fatti in quelli Ameri Ci mettiamo Anche una targa Vicino alla statua Di Cristoforo Colombo Il ricordo Ma è giusto Che la storia Si ricordi Quindi io sono Quindi questa è una cosa Che ti volevo dire Che mi sono tolta Questo sassolino È stata una telefonata Intensa ricordo Perché Perché io tentavo Di spiegarmi Lei mi diceva No ma non mi interessa No ma aspetta Ti volevo spiegare Però effettivamente Ti giuro Io non credevo Che fossi tu Credevo che fossi tu Però è stato interessante Io l'ho vista Come una lezione Ho detto Ok ho detto Una cagata Ed è giusto Che mi pigli Dei va a cagare Dalle persone Non sa come dire È bella Che si stia risolvendo C'è una sabbia mobile Tu tendi a finire Nelle sabbie mobili Della giustificazione Quando Dicevi giustamente Quando ti guardi allo specchio E sei sereno Di ciò che hai fatto Di ciò che stai facendo Sei sereno Non devi giustificarti A te sta venendo Ti è venuta ormai La sindrome dell'impostore Quindi qualsiasi cosa A me è venuta Ce l'ho Ce l'ho Guarda c'è della gente Che seppure tu salvi Un gatto Da un incendio Ti diranno Che tu l'hai fatto Perché ti vuoi inculare il gatto Sì 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 Quindi No no ma infatti Poi nel pubblico È un incubo Perché non puoi Cioè Anche se prendessi Uno ad uno Le persone Da convincere Non riesci Non riesci Non ci sono tesi Che tengano Diventi anche una palestra Di opinione Quando Poi avanti un'opinione Divisivo Polarizzante E poi Non puoi sgarrare Quando ti sponi Quando ti sponi su una cosa Da lì in poi Ti vengono a fare le pulci Tutti Certo Qualsiasi cosa Tu adesso Per quello di cui è più facile Non fa E certo I nulla facenti Ti dicono Ah perché lo fai Ah perché lo hai fatto Ah perché farlo Eh però È più Se ci tieni È più facile Non farlo No Se tu non sposi una causa Non la sposi Però non stai a dire A una persona Che invece vuole sposare Quella causa Ah ma tu lo fai Perché Sì sì ma Indipendentemente Dalla questione personale Su di me Che ovviamente Mi roda il culo Lo devo dire onestamente Mi roda il culo Quando si dice una cosa Che non rispecchia la mia persona Però vorrevo andare oltre Cioè volevo metterla Su un piano più generico Più relatable Per le persone E far comprendere Che La cultura del processo Alle intenzioni Ah Cioè è troppo facile È troppo È troppo sbrigativa Sì ma intanto Lo faranno Lo faranno comunque Quella è la rottura di cassa Certo Il tuo processo Al processo alle intenzioni È una battaglia persa Perché tanto Ne arrivano altri Cento Ma sì Come prendere a spallate Le onde del mare È vero Però era interessante Anche il tema del rap Cioè io non reputo Omofobi rapper No Cioè onestamente Li ho conosciuti molti Non sono omofobi È che In quell'ambiente In quel periodo Storico preciso Raga E non è una giustificazione Cioè non è Però Riesce difficile Poi esporsi Nel presente Su queste tematiche Qua È che ci siamo formati In anni di licei In cui la F word Era D'uso comune Proprio da parte di tutti Mi ricordo infatti Quando facevo il liceo Che poi non era Una vita fa Dieci anni fa Di ragazzini Che avevano fatto outing Pochissimi Poi ho fatto un anno in America E c'era davvero Un terzo della scuola Che poi era una scuola d'arte Non so se fosse correlato Ma il terzo della scuola Avevano tutti fatto outing Capito Mentre in Italia Anche a ritorno Cioè fino a sei anni fa Non Non era Cioè perché Perché se cresci Con tutti gli amici Che come dispregiativo Usano Eh sei un froccio Non ti viene a dire Se gli altri non ridono Vengono Bullizzati Anche quelli che non ridono Perché non prendono Però posso fare la maestrina Con la matita rossa Sì sì Abbiamo una matita rossa Allora faccio Non si dice outing Allora io faccio Adesso Una puntata speciale Di Superquad Vai aiutaci Invece di Alberto Angela Faccio Angela Alberto Facciamo così Allora La differenza tra Coming out e outing No te lo dico Allora Coming out è quando Tu decidi Di dire Di te Quindi Dice mamma Sono gay Ok Ho pure i tuoi amici Che ti spiega Che fai oggi Esco con il mio fidanzato Se sei un uomo Quello è coming out Outing è invece Quando tu dici Di qualcun altro Ah sì Quindi se tu dici Io pensavo che era di te stesso No Outing è quando tu dici Secondo me Pillon Non è gay No aspetta Facciamo un altro esempio Secondo me Che ne so Fedez è gay Fedez è gay Quello è outing Oppure se tu sai di qualcuno Che è gay Però non l'ha mai detto E tu lo dici In quel momento Stai facendo outing Ma lo esci Ma è una cosa Terribile da fare Quindi outing Allora guarda Non sembra molto carino Io non l'ho mai fatto Non l'ho mai fatto Però Quando sono state elette In Parlamento Ne hai visti Quanti che conoscevamo Che andavano nei parchi Di sera A 90 gradi Non per raccogliere Le margheritine Ma per raccogliere altro Oppure quelli che mi dicevano Si avvicinavano Mi dicevano Non dire che mi vedevi A mucca assassina Io dici No no Chi ti ha mai visto Stavi sempre nella dark room No Io dici Non ho mai voluto Usare l'outing Come arma Però certe volte Credimi Ti viene voglia Una voglia Perché quando tu vedi quello Che tu sai Che ha preso più cazzi Che cappuccini Che sta lì A puntare il dito A difendere la famiglia Lì proprio ti devi mordere la lingua Per non dire Cazzo Ma tu sei Cioè Ma è veramente Però finora non l'ho fatto Però credimi Un giorno di farla Primo o poi Perché Questo è un outing Che mi piace Ma è come dire Il re nudo Al posto tuo Non avrei resistito Mezz'ora Io raga Guarda io una volta Sono stata Dieci minuti L'avrei detto subito Tu sì Io una volta Mi invitarono A una convention Della Lega Nord Quando si chiamava Lega Nord Io ero parlamentare Per parlare di famiglia E io Guarda io sono sempre Stata disposta Al dialogo Cioè io Con tutti Con tutti E sono andata E vabbè Hanno cominciato Insomma Non è stata una convention Diciamo così Molto carina C'erano anche le guardie padane Che digrignavano Le guardie padane Che cazzo sono le guardie padane Erano tutti vestiti di verde Che facevano una specie Era una specie di polizia privata Con lo scudo Con le spade E c'era uno Che tutto il tempo Mi ha detto Che ero contro natura Che ero Di tutto Mi ha detto La sera Io non è che sia Tutta sta gran bellezza La sera Ha cominciato a corteggiarmi Mi ha detto Scusa ma Tu non eri quello Che diceva Che sto contro natura Cioè ma E vabbè Ma che c'entra Quella è politica È come il gioco È finito il gioco Hai capito Adesso c'è la vita reale È incredibile Porca miseria C'è l'ipocrisia Che mondo pazzesco Che cosa anche Un po' romantica Però Sì 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 Romanticismo dei bambini Di questo signo Sì tipo Se ti odia Ti ama Capito E ti fa capire Come l'odio Alla fine Amore inespresso Era un cesso Se no ci sarei pure amore Sarebbe stata Una storia bellissima L'avrei fatto cambiare Sai a volte Prenderlo al culo Allarga la mente Apre la mente E secondo te Quale può essere Che futuro ci aspetta Riguardo a queste tematiche Cosa potrà succedere Secondo te Le previsioni Beh Chiaro La storia è questa Fedez Cioè Possono rallentare Ma non possono bloccare Cioè Una legge verrà fatta Io penso Che più andremo avanti Nel tempo Col tempo Io sono ottimista Da questo punto di vista Cioè Più andremo avanti Nel tempo Più Le minoranze Saranno Gli omofobi Che però Si radicalizzeranno Diventeranno Più rumorosi Si incazzeranno Ancora di più Perché sentono Di perdere terreno Di essere una minoranza Di essere una minoranza E quindi Perché Poi alla fine Se tu vedi Noi abbiamo avuto Fedez Loro che ci hanno Povia Cioè capito Non so se vi è andata bene Anche a voi Però Non è andata bene A nessuno dei due Anche da un punto di vista Se tu ci pensi Loro da un punto di vista Anche culturale Musicale Così Non è che hanno Tutta sta Sì è vero Capito Quindi Loro sentono Che sono il passato Loro sono il passato Beh Giovanni Lindo Sono già morti Cioè sono morti Viventi Sono degli zombie Ma Una cosa che Che è venuta fuori In questo podcast In passato È proprio Non so con chi ne parlavamo Forse proprio con il Barbero Sul fatto che La storia È tutto Si ripete Sì ed è più importante Come dicevi tu Il presente Più che Il resto Potrebbe essere che Noi educhiamo I nostri figli I nostri figli Educano i loro figli Nel modo giusto Ma se si spezza la catena Cioè Si riparte da zero Come probabilmente È già successo in passato Che magari L'omofobia non è esistita L'educazione probabilmente È una scommessa Che si aggiorna Ad ogni nuova generazione Capito Quindi può essere Che finisca con i nostri figli Se la mia generazione La nostra generazione Non trasmette questo Fine Sì io credo sia Ho parlato in privato Di questo tema Dipende Cos'è innato però In che senso Cioè Fine Perché In assenza Di un'educazione Verrebbe fuori Automaticamente Una pulsione Xenofoba No No Infatti Secondo me Ci sono Secondo me L'omofobia è insegnata Facciamo che C'è una bella società In cui tutte le persone Possono sposarsi Come tutti gli altri O decidere anche Di non sposarsi Possiamo abolire il matrimonio In generale Ah sì Potrebbe spaccare Però che comunque Ci sia comunque Qualche pazzo ancora Che fa un'azione Di violenza Allora comunque Cioè persino a Londra Che come tu sai È una città Dove Insomma i diritti Sono avanti Però anche lì Succedono degli episodi Di omofobia Di lesbofobia No no ma Gli episodi Non puoi controllarli Cioè quegli episodi Non puoi controllarli Però Universalmente Vengono condannati Cioè non so come dire In Italia Secondo me Ancora oggi L'atto omofobo in sé Non viene metabolizzato Come atto omofobo O Non so come A livello di sensibilità C'è ancora Anche il lato razzista Ma anche Da una parte di popolazione Da una parte di popolazione Non viene percepita Come C'è l'idea Cioè si tende a ridurre Il tema Dicendo che È un atto violento A prescindere dalla sua natura Le argomentazioni Di chi contrasta Questa è un'argomentazione L'argomentazione Di chi contrasta Che ho letto più spesso È Sì ma non sono tanti Cioè dicono Noi stiamo Stiamo perdendo tempo A parlare di Poche aggressioni L'anno È un'argomentazione Che viene utilizzata Sì quella Che non è Oppure Attenzione Così non potremo più manifestare Il nostro libero pensiero E poi Genere Identità di genere Capito Ah voi volete confondere Tra l'altro Se voi parlate con i ragazzi Cioè Voi lo sapete I ragazzi adolescenti di oggi Sono Più avanti Sai che io non lo so Continuiamo a dircelo Ma io Realmente Non lo so Io penso che Sai cos'è Non vogliono più etichette Cioè Dici Cioè io vedo Sì 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 Ma infatti Io lo spero Ho vissuto in uno stato di grazia Nel quale appunto Si evadeva l'etichetta Di qualsiasi tipo Però infatti Cioè Vedo dei ragazzi che dicono Io Sì a me piacciono le donne Però Non escludo Che potrei avere un rapporto sessuale Con un uomo Questa cosa non mi deve etichettare Come gay Come bisex Una cosa comunque Che Manca Nelle scuole Indipendentemente da tutte Continuate Ma Cioè L'istruzione Ma Tipo Educazione sessuale Non la fanno Non è obbligatoria Nelle scuole Vero Perché dicono Loro Dicono Che Devo essere in famiglia A parlare di certe cose A parte non se ne parla Spesso in famiglia Ma effettivamente Io farei proprio Educazione sessuale Sentimentale Proprio Educare A rispetto Eh madonna Ma prima devi Nei confronti delle donne Vorresti farlo Agli insegnanti Prima È quello il dramma Good point Good point Quello è il problema Prima bisogna formarli Educazione Educazione civica Eh sì Alla fine è quello Cioè uno Perché la mette sul sesso Ma alla fine Si parla di educazione civica Un popolo Alcune scuole lo fanno Però Molte scuole lo fanno Lo stanno facendo Con l'autonomia scolastica Per fortuna Riescono a gestirsi Riescono Delle menti più illuminate A parlare anche di questo Nelle scuole Che è importante Un insegnante di matematica Che parlava di queste cose Sì Esatto Si prendeva le ore di matematica Per parlarci di educazione Ogni tanto qualcuno Prende in mano la situazione E dice salviamo sti ragazzi Radio Alice Quindi aveva tutto Una maniera molto personale Cosa Martino Non ho capito Stava a Radio Alice Ah Chi? Questo nostro professore Stava a Radio Alice Che cosa è Radio Alice? Una delle prime radio libere Radio pirata Quando ancora c'era Sì ma poi era un periodo Quello del 76-77 Dove si liberalizzarono Beat Generation Un po' più avanti Però si liberalizzarono Dopo le frequenze Dopo che c'era stata L'egemonia statale Tu pensai che io Ho lavorato a una radio Nella mia città Che si chiamava Radio Foggia International Pensa che ambizio Ed era in una stalla Perché l'aveva fatto Questo mio amico Che non si faceva con niente E lui metteva il disco Adesso sentiamo Donna Summer I feel love Poi magari doveva andare A mungere Allora magari Arrivava tardi Sentiva proprio il rumore Della puntina Che finiva Perché nel frattempo Magari stava Mungendo una mucca Radio Foggia International Scusa Ho ricordato No 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 Sono esperienze meravigliose Ogni regione d'Italia Ne ha avute diversificatissime Bologna meglio Passavano le telefonate In diretta Che era una cosa Avanti Tanto che poi In realtà Prese una piega Che poi fu La sua fine Perché In un tempo Nel quale non c'erano I telefoni E Bologna Divenne una certa Territorio di guerriglia Durante gli anni Di più Con la morte Di Lorusso Che era questo manifestante La radio Veniva utilizzata Per comunicare Ai manifestanti Gli spostamenti Della polizia Perché tutti Potevano avere La radio Oh wow E quindi Quando uno Si attaccava A un telefono pubblico Chiamava in radio Mettevano in diretta E diceva Le cose Bellissimo Spavano I Bellissimo Che bella Mi fai ricordare Peppino Impastato Quando ricordi Queste cose Guarda L'utilizzo della radio Veramente Che faceva paura Invece Io molto banalmente Usavamo la radio Per richieste dediche Carmela Dedica a Tonino I B-Jeans Capite Era questa la radio E facevamo noi Però è buffo Perché in quel periodo I mezzi di comunicazione Si sentiva ancora Fortissima La loro forza Come fu all'inizio del secolo Dove sconvolsero Completamente il mondo Negli anni settanta Quando ci fu Un'appropriazione Da parte Dei movimenti Delle radio Divennero Una cosa Che proprio anche lì Sembrava che si fosse pronti A una rivoluzione Adesso Manca Adesso la sensazione È che ce ne hanno dati Così tanti Che si inflaziona L'informazione Si non si capisce più Caos Eh infatti Voi fate informazione No Peno male che ci siete No Infatti stavo proprio per dire No Aspettiamola Noi facciamo parte del rumore Noi facciamo parte del rumore Biffo qualche tempo fa Parlandogli Lui mi ha fatto Guarda Secondo me adesso Bisognerebbe lavorare Sul silenzio Più che sull'informazione Che è quello che ha parlato In radio In finito tema Ancora adesso Scrive Fa insomma Troppe voci Troppe Troppe stazioni radio Capito Beh però è un bene Io sono sempre Sì anche secondo me No il problema di internet È che ti L'algoritmo Ti mette solo nella tua Filter bubble Sì Nella tua bolla Nella tua bolla E credi che tutti la pensino In quel modo È come quando dovevi comprare Più di un'attestata giornalistica Per avere un'idea Più o meno È ancora così Ancora così Devi cercare di saltare Nelle altre bolle Cioè seguire cose Che non fanno parte Dei tuoi interessi Soltanto per capire Come la pensano È facile iniziare a credere Che il mondo La pensi come noi Seduti qui in questo momento Quando Ah sì sì Beh ma alla fine Il dibattito di cui parliamo Cosa sono se non scontri Tra bolle Due bolle Che si scontrano Tra loro sostanzialmente Bello Mi è piaciuto Questa cosa Delle bolle Bolle No Roberto Bolle Ok siamo nella fase Del silenzio amici Eh perché C'è Il silenzio è musica Musica Il silenzio è musica Ah sì bellissimo Un bel silenzio Non fu mai scritto Come era Se una cosa del genere Che era Cosa Io voglio fare Quell'esperienza Tipo di Non la privazione sensoriale Ma quando ti privano Di Non puoi parlare Per dieci giorni Non puoi usare Il telefono Quelle robe Da ritiro Spirituale Esatto Ma io Perché Non so Ci stiamo fondendo Ormai Psicofisicamente A stare sempre A parlare Su internet E secondo me È bene Anche Prendersi Proprio Un attimo Un attimo Dieci giorni Di silenzio Sì sì Più per contemplare Che non Per continuare A dare feedback Rispetto a ciò Che ricevi È over stimulated Tutto quello che viviamo Capito Troppi stimoli Cioè non c'è un attimo Questo è vero Perché soprattutto Nella nuova generazione Ci sono tantissimi Disturbi Proprio di concentrazione Da parte dei bambini Proprio perché sono bombardati Da tanta roba Perché la pausa Vuol dire Ok mi posso rilassare Bene Quindi tiro fuori il telefono Scrollo Quella è la pausa È l'unico momento Dove veramente Non fai nulla È quando dormi Ma neanche lì Poi Cioè Se serve un po' di nulla Forse un tempo Era più facile fare nulla Forse no Però ora davvero Lo scopriremo Solo vivendo Sì Vabbè Bello Mi piace Sì Cosa volevo dire Grazie Grazie Ogni tanto Era eremita Sì può essere Una certa Vado in burn out Proprio mi ritiro Facciamo Andiamo a fare gli eremiti Da giardino Ah bello Conoscete gli eremiti Da giardino Cosa sono Una figura Praticamente Dall'eremita Da giardino Nasce Il nano da giardino In pratica Alcune figure Alcune figure Nobili del passato Questa è antropologia Alcune figure Nobili del passato Quelle che avevano Sai la villa Con l'enorme Giardino Di rappresentanza Tenevano In un angolo Della villa Una caverna Con un uomo Che doveva fare L'eremita E che cosa C'è lo scoprivo Tipo giullare Che ti raccontasse Per avere questo Questo qua Che camminava Guardando la natura E ti dava l'idea Del gentil selvaggio Che stava lì In armonia Con il creato Era uno schiavo No no Pagato Pagato Ok Vedi Che accettava di vivere In un eremo Appositamente costruito Nella villa Di un ricco proprietario Terriero Che magari Tirava le sue somme Sulla vita Sì sì Ogni tanto Tu avevi degli ospiti Facevi Ehi Vieni Una sociale in casa Unikiko Mori In giardino Vieni a deliziarsi Con le sue storie Su com'è bello La natura Gli alberi Com'è semplice La vita Quando non ero È stato il mio lavoro Preferito Lavoro bellissimo Incredibile Un po' spaventosa Come cosa Ma come no C'è la tua casetta Adesso ti caga il cazzo No dico che in giardino Hai un personaggio Che sta lì a riflettere Però il proprietario Stava nella sua villa Lui invece doveva stare Nella grotta Secondo me Secondo me Gli faceva fare il guardiano Sì Era un portinaio Anteliteram Tipo Ma infatti Non è durata Granché È stato sostituito Col nano del giardino Che comunque È una presenza Anche quella Dice Che ci fai Col nano nel tuo giardino Meglio dell'eremita Comunque Eh sì Progetti per il futuro Io? Eh sì Ah vabbè Io dirigo un festival Di cinema A tematica LGBT plus Dove? A Torino Che si chiama Lovers E quindi A fine Fine aprile Inizio maggio Faremo Rifaremo un'altra edizione Di questo festival Con lungometraggi Documentari E cortometraggi Da tutto il mondo Di film che si potranno Vedere solo lì Bello Quindi molto bello Poi Ospitate televisive E in realtà Tante cose Perché io partecipo A un sacco di Riunioni Dibattiti Dibattiti Convegni Sempre su questi temi Quindi Diciamo Una vita in prima linea Sì 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 Attivismo Di comunicazione Molta comunicazione Non mi sottraggo Ah ecco cosa volevo chiederti C'è una domanda interessante Davvero Sì Storica fu Storico fu Lo scontro Tra te E Alessandra Mussolini Ti ricordi? E beh Secondo te me lo scordo Che lei disse A porta a porta Sì E Alessandra Mussolini Disse Meglio fascisti Che froci Giusto? Sì Allora Intanto Era la prima volta Che andavo A porta a porta Da Bruno Vespa Mi stavo cagando sotto Perché Comunque Bruno Vespa È uno Molto preparato Quindi Io Si era appena saputo Della mia candidatura E io andavo In questo Battesimo del fuoco Capito Poi c'era L'ex ministro Della giustizia Castelli C'era Di Pietro C'era appunto La nipote Io ero l'unica Che diciamo Che non ero mai andata In una trasmissione A parlare di politica No? Fino a quel momento Quindi Ero così Allora Lei era Incazzata Perché Aveva litigato Con Storace Non so che cos'era Su Comunque Era molto nervosa A un certo punto Del dibattito Ha cominciato a dire A me Perché voi Vi vantate Di bruciare Le bandiere Italiane I morti Di Nassiria Che ho detto Ma abbiamo anche Dei difetti Ma io ho detto Ma io non ho bruciato Niente Una volta Ho bruciato Il sugo Perché non L'ho dimenticato Di bruciare Ma io vado a bruciare Allora ho detto Ma scusa Ma Di che ti vant Cioè Io non mi sono mai Vantato di nulla Cioè Ah Questo si veste da donna E pensa di poter dire Quello che vuole E poi ho detto Meglio Appunto Ha detto quella frase Meglio fascisti Che froci Che non li ha portato Neanche bene Perché poi Non è neanche riuscita A essere letta Quell'anno Quindi non avevo Però poi Io Guarda Io avevo subito capito Che lei Il momento dopo Aver detto quella frase Se ne era pentita Perché io Ho sviluppato La psicologia Dello sguardo Perché delle prime volte Che mi vestivo da donna Uscivo per strada Io avevo imparato A capire lo sguardo Di chi Non gliene fregava un cazzo Lo sguardo Di chi mi disprezzava Lo sguardo di chi Magari gli potevo pure piacere Quindi ho imparato E quindi L'avevo capita questa cosa Però lei era Sai Sempre molto orgogliosa Non aveva mai detto Sbagliato Anche se tante volte Gliel'avano chiesto Però devo dire Che Millie Carlucci Ha fatto il miracolo Eh Perché E quando lei ha fatto Ballando con le stelle Cioè Dopo mi ha chiesto Scusa Ah sì Non lo so Ha fatto DDL Zan Wow Per cui Appello a Millie Carlucci Fai ballare Giorgia Meloni Di trovare Ballerino Magari pure lei Uscirà Quindi avete fatto la pace Sì sì Abbiamo Sì Ci siamo Maio Che bello Che bella storia Beh ragazzi Ha cambiato idea La nipote di Mussolini Possiamo cambiare idea Tutti Beh dovrebbe cambiare idea Poi magari chiederà scusa Pure a Liliana Segre Magari Cioè La cosa nasce Cosa dai Come hai detto tu L'orgoglio diciamo È una caratteristica Ereditaria Credo Quindi prima o poi Ce la faranno Ce l'auguriamo Ce l'auguriamo Sì Bene dai Siamo soddisfatti Sì sì Una bellissima chiacchiera Grazie 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 Federico Che parla Perché Scherzo No magari sì No 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 Va bene Grazie mille Ringraziamo Vladimir Luxuria Per essere stata con noi A Muschio Selvaggio E ci rivediamo Una prossima puntata Esatto Grazie Ciao vici Ciao